La cellulite è un accumulo di tessuto adiposo, quindi di grasso, con caratteristiche molto simili a quelle che c'è in altri organi, anche a livello della pancia, ma strettamente localizzato in alcune aree, tipicamente nei glutei, nel sedere, e fermamente concentrato da un'apposita disposizione architettonica di tessuto fibroso. Quindi è un tessuto fibroso che con particolari tipi di cassetti immagazzina questo tessuto adiposo a livello gluteo. La parola cellulite, che è una parola che veniva un po' guardata con disprezzo un po' di tempo fa, invece adesso significa questa situazione morbosa e viene usata normalmente in tutte le riviste scientifiche del mondo, soprattutto di dermatologia, e viene inserita nella banca dati universale delle malattie che si chiama PubMed, che consiglio a tutti di frequentare, che è gratuita, PubMed del sito americano e che contiene tutti gli articoli di medicina che passano su riviste che vengono giudicate in maniera obiettiva e concreta. Quindi la parola cellulite viene ampiamente accettata e connota esattamente quel disturbo che noi sapevamo esiste da tanti anni. Soprattutto la razza bianca, ma anche la razza nera, hanno questo problema, ma è da poco che le indagini genetiche hanno dimostrato che i soggetti portatori di cellulite hanno alcune alterazioni geniche, non gravi, sono dei polimorfismi, non li chiamiamo, ma che conducono probabilmente a una sregolazione di alcuni sistemi di regolazione fine del tessuto adiposo. L'unico farmaco che esiste attualmente a livello mondiale, direi, per la cellulite è la somatoline, che contiene elevate quantità di ormone tiroidei di T4, che è l'ormone prodotto dalla tiroide. Dal punto di vista del meccanismo d'azione, non lo sappiamo con sicurezza, ma è possibile che il T4, che ha 4 atomi di iodio, possa venire portato a T3 a livello cutaneo, a livello sottocutaneo, quindi proprio solo nella pelle, e lì possa agire su alcuni recettori dell'ormone tiroideo presenti a livello del tessuto cellulitico stimolando la lipolisi, cioè la scissione del tessuto adiposo. Questo da un punto di vista teorico. In pratica noi abbiamo fatto due studi, in maniera randomizzata, in doppio cieco, sottoposti a comitato etico e sottoposti anche ad autorità regolatorie, dove abbiamo visto che l'applicazione di somatoline nelle zone affette da cellulite comportava una riduzione del diametro, della circonferenza della coscia discreta rispetto alle pazienti non trattate di circa un centimetro e mezzo. E contemporaneamente abbiamo eseguito per uno studio di sicurezza valutando nel sangue le concentrazioni di ormoni tiroidei di tutti gli ormoni tiroidei, T3, T4 e un altro che si chiama Reverse T3, nonché di un ormone fondamentale che è il TSH, che è un ormone prodotto dall'ipofisi e che regola la tiroide. Non c'è stata nessuna modificazione di questi ormoni, sia quelli tiroidei sia quelli ipofisari. Quindi siamo assolutamente sicuri che non c'è biodisponibilità, come chiamiamo noi, cioè non c'è passaggio nel circolo del T4 che è presente nelle somatoline e neanche di T3 probabilmente prodotto a livello locale. In compenso abbiamo un certo grado di efficacia clinica che è stato poi testato in doppio cieco, quindi non è un'impressione soggettiva di noi, ma è un'impressione ricavata da uno studio in doppio cieco in cui né io né le pazienti sapevano quale prodotto veniva applicato.